Due cittadini cinesi di 30 e 41 anni sono stati arrestati per una serie di rapine e furti in appartamento compiuti tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Gurizia. In questo modo si è chiuso il cerchio sulla complessa attività di indagine finalizzata a smantellare una banda di cittadini cinesi dediti a reati contro il patrimonio. Le indagini avevano permesso di arrestare già nell'agosto del 2018 altre sei persone sempre di nazionalità cinese. Le due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Venezia sono state eseguite a Torino e a Gurizia. Alla coppia di cinesi vengono contestate tre rapine in appartamento tra cui una a San Pier di Sonzo in provincia di Gurizia e una a Mestre e otto furti ai danni di connazionali. Nel dettaglio le due persone arrestate secondo l'accusa hanno avuto un ruolo di primo piano nel contesto di una rapina effettuata in una fitta camere di mestre dove erano alloggiati numerosi cittadini cinesi tra cui proprio i basisti della banda già arrestati nell'agosto dello scorso anno. Gli indagati nel corso dei loro raid criminali usavano armi da fuoco e da taglio, coltelli alla malunga, accette e macete e non esitavano a usare violenza sulle vittime che venivano imbavagliate legate con fascette di plastica. L'indagine si è rivelata particolarmente complessa in considerazione della ritrosia delle vittime a denunciare alle forze dell'ordine le rapine e i furti subiti nel timore di subire ulteriori gravi ritorsioni.